Un Paese che ha ormai due generazioni, offre o l'emigrazione o la rincorsa tra tanti lavori dequalificati e sottopagati, non è che solo sta facendo un danno nel momento, in realtà sta precludendosi un futuro, sta rinunciando ad avere quelle risorse di innovazione, di cambiamento, di qualità e di crescita dell'istruzione che sono alla base del continuo evolversi di tutti i Paesi. Allora a questi giovani italiani gli diciamo che il tema è di nuovo ancora per la ventesima volta negli ultimi vent'anni che il problema è che ci sono troppi diritti di qualcuno e che quindi è bene toglierli a qualcuno o proviamo a fare invece un ragionamento diverso? Come investiamo tutti sulla qualità, la serenità e la tranquillità del lavoro dei giovani attraverso il fatto che ci sono, nella vecchia Europa c'erano, dei diritti universali che non possono essere negati a nessuno. Che non si può negare il diritto al riposo, che non si può negare il diritto alla maternità, che non si può negare il diritto alla malattia o all'infortunio, che non si può negare il diritto a un'equa retribuzione rispetto al lavoro che fai, che non si può inventare che il lavoro subordinato non è un lavoro subordinato ma diventa invece consulenza di vario genere e tipo. Ci sarebbe uno straordinario bisogno invece di procedere all'unificazione della tutela e dei diritti per tutti. Non ci pare che questo sia invece l'oggetto della discussione attuale. Ci pare che le forzature siano tutte in un'altra direzione. Da quelle forzature ne deriva un'idea di Paese che regredisce, di Paese che arretra dal punto di vista della qualità dello sviluppo e di Paese, permettetemi l'ultima considerazione, che rinuncia, nonostante il voto del 25 maggio, rinuncia ad essere un motore di cambiamento del dibattito europeo.